Dicono che sia l'estate più calda degli ultimi 50 anni, in effetti un po' di caldo c'è, questa mattina siamo venuti alla villa comunale di Adano per sentire un po' gli umori degli adaniti, per sentire alcuni anziani che ci spiegano come vivevano le loro estati senza climatizzatori e senza frigoriferi. Abbiamo visto anche un po' di storie molto carine, anche gli animali ovviamente sentono il caldo, sentono la sete, quindi vengono invitati dai loro padroncini a bere l'acqua attraverso anche un bicchiere qui alla villa comunale. Ovviamente anche i cani bevono, anche i cani sentono caldo, vero? Certo, normalmente, con questa estate molto calda, quest'anno, le facciamo bere. Hai portato il bicchiere apposta per il cane? Sì, certo, è normale, se no come lo facciamo bene, se sento che non funzionano dove bevono i cani, lo facciamo bere qua. Una doccia alla villa, vero? Con questo caldo ci vuole? Sì, ci vuole, ecco, quest'estate è veramente micidiale. Anche se non è molto igienico veramente fare la doccia alla villa, giusto? No, perché non è igienico? Come mai? È una doccia secondo te? Ah, va bene, ma uno si rinfresca tanto fra dieci minuti, anzi anche meno, sono di nuovo tutto asciutto completamente. Va bene. Signora, mi sembra che ha un po' di caldo, vero? No, che te lo fa pensare? Come dobbiamo fronteggiare questo caldo fortissimo? Bene, è possibile stare al fresco, mangiare le cose leggere, penso, frutta. Lasciamolo fare il caldo, perché è il tempo suo di riscaldarci a tutti. E allora, buona giornata e buon tempo, mi si digenera di questo caldo. È terminata. Si sistemata la televisione poi per il decoder? Sì, lo sistemata. Era tutta decodettata già ormai. Una bella panchina alla villa, fresca è l'ideale per fronteggiare questo caldo, vero? Soprattutto se si è in pantaloncini. Certo, in pantaloncini ci dà un po' di refrigerio. L'ambiente si pressa con tutto questo ambiente alberato, un polmone di verde che noi dobbiamo cercare di mantenere, soprattutto gli adraniti, dobbiamo fare di tutto, che le amministrazioni lo tengono sempre in un modo pulito, corretto. Non è che sia il massimo in questo momento, ma in un modo sufficiente si può... Sento come affronteggiamo questo caldo, oltre che prendere un po' di fresco alla villa? Cercando il fresco, bevendo... sembra acqua abbondante e tutte queste cose. Insomma, cose semplici che anche gli animali avvertono il caldo, vero? Sì, certo, tutti siamo così. Sentiamo il caldo, sentiamo il fresco. Insomma, oggi potremmo dire che c'è un po' di caldo, ma speriamo che si rimetta bene. L'ho detto che l'estate è più calda degli ultimi 50 anni, è vero? Ma no, io mi ricordo quando ero ragazzo io, avevo 20 anni, e mi pare che c'eravo solo, i frigorifichi non avevamo, l'acqua fresca non avevamo, e mi campavo meglio di oggi che ci sono i congelatori. Appunto, un tempo era più difficile, fronteggiare il caldo, non c'erano climatizzatori? Niente, io sotto, uscivo fuori, ero sotto le carale, che le case avevamo qui, decolo, diciamo, no? Uscivo fuori, mi sedevo fuori, e sentevo fresco lo stesso. Oggi, oggi... Sì, questo... Certo, poi mi favo il bagno, andavo a cebbi, quando andavo al fiume, poi mi favo il bagno, perché a cadere... E' sempre acqua, insomma. Certo, a cadere non ci potevo scendere perché i soldi non ce n'erano, questo so. Mi hanno detto che, insomma, l'estate è più calda degli ultimi 50 anni, se ne ricorda ero più calda? Ma ce ne sono state uguale, ce ne sono state uguale, ce ne sono state. Ma quando lei era più giovane, come si fronteggiava il caldo, quando non c'erano climatizzatori, frigoriferi? Lo sai perché c'era, c'era, e avevamo l'abitudine, come mi era poi, cioè, cattava i bomboli, i guattari, che dovevano tornare. Che dovevano tornare, era una greta più, che teneva più, che o meglio. Se mentivano sotto qualche cosa, e dovevano un pochettino. L'acqua era bella fresca, vero? Bella fresca, quasi così, e a stammero, ora i frigoriferi qui sotto un'altra buona. pari shambagnola